Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'incarico indaga su un'anomalia rilevata sull'isola degli squali. Bisogna fare tre premesse. Per completare questo incarico dovete raggiungere il livello 28 del pass, dovete utilizzare esclusivamente questa skin e dovete riprovare l'incarico 4, 5, 6, 7 volte fino a quando non potete finirlo. Questo perché l'incarico è buggato. Dovete fare quattro cose, praticamente il bug ne permette di fare solo tre, quindi dovete uscire e rientrare fino a quando non completate la sfida. Andate qui, quindi saltate, poi procedete in avanti e completate il secondo passo. Accovacciatevi, mi raccomando, fateli tutti. Andate qui per fare la terza cosa, cioè quella di ballare. Potete usare una qualsiasi emote e dopodiché dovete raccogliere l'anomalia. Ora in questo caso non c'è perché la sfida è buggata, quindi ci rivediamo tra poco con la, diciamo, versione corretta della sfida in questione. Rieccomi, adesso come vedete l'anomalia si vede, questo perché ho provato diverse volte per farla comparire, quindi una volta che compare andate qui, la raccogliete e in questo modo avrete completato l'incarico.